Salve siamo qui a Prato la Serra con Blandi, le prime due impressioni di questo ritiro amichevole tra di voi? Ma è stata una bella partita fra di noi, soprattutto in famiglia, siamo un bel gruppo e cerchiamo di dare il massimo giorno dopo giorno, soprattutto in ritiro, per prepararci bene al campionato. Tu preferisci dei gironi, vediamo, c'è il girone H, il girone E, tu che girone preferiresti giocare? Io l'anno scorso ho fatto il girone H, un po' uno dei più difficili, però lì non l'ho mai giocato purtroppo, però penso lì sarebbe più favore a noi. Che emozione proverai a giocare a San Francesco? Penso sarà una bellissima emozione con tanti tifosi e cercheremo di dare il massimo su dare la maglia e soprattutto onorarla. Grazie a tutti.